Praticamente qui sopra, qui stasera, proveremo a cuocere le prime braccia e dita di omino verde. Qui sono le griglie per nutrirci, perché ultimamente ce ne sono anche parecchi, chi avesse degli omini verdi e non volesse mangiarli, li può portare a me e mi chiama al numero 3, 3, 8, 31, 58, 3, 3, 6, fighe.